...1 di Prenitalia, per le ore 15.55, proveniente da Bostano e diretto da Tano del Granva, è in arrivo a Milaghi. Attenzione, all'unità di dalla linea Gatti. ...1 di Prenitalia, per le ore 15.59, è in arrivo a Milaghi, attenzione, allontanati dalla linea Gatti. ...1 di Prenitalia, per la la... ...1 di Prenitalia, allontanati dalla linea di Prenitalia. ...1 di Prenitalia, allontanati dalla linea Gatti. ...2 di Prenitalia, per le ore 15.59, è in arrivo a Milaghi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.